Arnautovic che resta non star Correa forse gioca a titolare con il Genova a questo punto non ci sto capendo un cazzo signore Giuse Giuse devi fare un video Giuse anche se dopo ti dicono le cose brutte ma lasciali perdere sono invidio a questo punto non ci capisco più un cazzo signore Arnautovic che resta come quarta scelta e forse Correa parte come titolare con il Genova e fu così che l'Inter finì il ciclo perché così finisci grazie a tutti Grazie a tutti.